aaaah non è un e ma rogo non è un bel caso, è cosciuto passi mettiti in piedi vicino a lui mi ha portato una pieta mi ha portato i mini bani mi ha portato una pieta una pieta un bambin stai caldo mi piace assaggiare con gli stessi ma è fredda, è pittura aspetta, mi raccomando grazie